buongiorno benvenuti nel mio canale ieri vedremo come creare dei video trasparenti con un shortcut con il codec webm con il formato webm e vedremo anche come creare delle scritte trasparenti in realtà c'è un metodo ancora più semplice per creare scritte trasparenti senza usare il chroma key oggi vedremo quello ma vedremo anche come creare delle scritte trasparenti animate per animate intendo con i caratteri che vengono mostrati uno dopo l'altro come se fossero digitati sul momento dunque innanzitutto vediamo come creare delle scritte trasparenti in maniera semplice più semplice di quello che abbiamo visto ieri si va su apri altro colore si lascia trasparente ok qui c'è un viene formato un un elemento una clip colore di 3 secondi e 29 lasciamo stare il tempo torniamo su elenco di produzione e andiamo sul più per aggiungere questo elemento trasparente all'elenco di riproduzione questo e che adesso questo è questa clip di 3 secondi e 29 la portiamo sulla timeline in questo modo magari aumentiamo lo zoom selezioniamo la e adesso andiamo su filtri diamo sul più video text rich ecco qua qui per portare il questi rettangoli a coincidere con lo schermo è molto semplice mettere zero qua nella posizione qui si mette la risoluzione in larghezza 1920 qui la risoluzione in altezza se chiaramente uno ha scelto queste impostazioni in modalità video questo modo e adesso qua digitiamo la scritta per andare a capo si va su invio ecco la scritta è digitata la possiamo personalizzare come ci pare possiamo sempre metterla al centro possiamo scegliere un colore diverso magari marroncino ok e possiamo anche scegliere una dimensione maggiore possiamo centrarla meglio inserendo un cursore qua e andando su invio per portarla più in basso selezioniamo e cambiamo che fonte andiamo scegliamo il fonte un ponte che uso anche io questo qua shock y ok qui c'è già il grassetto aumentiamo fino a che non prende tutto lo spazio diciamo 250 più o meno ecco fatto questa è la scritta trasparente la fila trasparente può essere esportata come video per esportarla come video si va su esporta e qui si sceglie nei formati alfa che hanno quindi la trasparenza è formato webm vp9 si esporta il file e il file verrà esportato dunque io ho già fatto l'esportazione faccio vedere il risultato questo è il risultato della scritta trasparente che potrà essere sovrimpressa a un qualsiasi video però come vedete è una scritta fissa adesso vogliamo fare in modo che la scritta diventi animata cioè che si veda un carattere dietro l'altro come se fosse digitale sul momento torniamo su filtri vediamo se mi riesce un po fare una cosa un po strana quindi copio questo filtro vedere se mi riesce ad incollarlo per non stare a ripare a riscrivere tutto questo quindi lo copio l'ho copiato adesso creiamo un elemento colore trasparente più piccolo diciamo della durata di mezzo secondo più o meno quindi si va su apri altro colore trasparente ok qui viene creato solito elemento di 3 secondi e 29 andiamo su elenco di produzione lo aggiungiamo o eventualmente prima di aggiungerlo diminuiamo qui la durata vediamo se mi riesce ad andare meno di un secondo ma c'è delle difficoltà da meno di un secondo va a 29 vabbè mettiamo 29 quindi andiamo sul più questo elemento trasparente lo portiamo nella timeline che è di 29 dovrebbe essere centesimi ma francamente vediamo un po no è di 4 secondi addirittura ecco facciamo così così è più piccolo e adesso io vado su filtri prima se vi ricordate ho copiato il filtro del testo che avevo scritto e adesso provo a incollarlo se mi riesce ecco l'ho incollato in effetti viene incollato esattamente il filtro che avevo già creato precedentemente a questo punto io ci clicco sopra e elimino tutti i caratteri andando su escludo il primo poi seleziono qua qui come vedete ci sono due pulsanti quello di copia e quello di incolla vado su copia porto alla fine qua l'indicatore di riproduzione e vado su incolla quindi viene incollato lo stesso elemento però io a questo elemento ci clicco sopra e ci metto la S lo copio vado su incolla e a questo elemento ci clicco sopra e ci metto la S lo copio vado su incolla clicco qua e ci metto la R e ci metto la I lo copio ancora vado su incolla clicco qua e ci metto la V lo copio vado su incolla clicco qui e ci metto la I clicco qui e ci metto la T lo copio vado su incolla clicco qui e ci metto la I lo copio vado su incolla clicco qui e vado a capo e ci metto la A lo copio lo copio vado su incolla e ci metto la L lo copio vado su incolla clicco qui e ci metto uno spazio e ci metto la C copio incolla clicco qua e ci metto la A clicco qua e ci metto la A incolla clicco qua e ci metto la N copio incolla clicco qua e ci metto la A copio incolla clicco qua e ci metto la L copio, incolla, clicco qua e ci metto la E, copio e magari incollo tre o quattro volte per visualizzare la scritta magari qualche secondo in più, copio, poi incollo 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 e adesso vediamo come è il risultato finale, clicco qua sul primo elemento e faccio andare a riproduzione, come vedete viene mostrata la scritta con gli ultimi elementi che si ripetono tutti a questo punto si può esportare la scritta come abbiamo visto in precedenza, si va su esporta, si sceglie lo stesso formato webmwp9, esporta file, la chiamiamo scritta digitata andiamo su salva e verrà esportata e noi ne potremo vedere il procedere dell'encoding direttamente qua nella finestra attività in alto a destra sta per terminare e adesso potremo vedere come utilizzare questa scritta trasparente, che è un video per esempio andiamo su elenco di produzione eliminiamo questa traccia e magari portiamo qua in elenco di produzione un video qualsiasi e portiamo anche la scritta digitata che abbiamo appena creato in webm se noi adesso spostiamo questo video qua nella timeline, questo video qualsiasi che abbiamo trovato diminuiamo un po', ecco noi possiamo metterci la scritta sopra a questo video perché quella che abbiamo creato è una scritta animata e anche trasparente andiamo sul menu Recuperation, Aggiungi traccia video e in questa traccia video aggiungiamo la nostra scritta digitata che come vedete forse è un po' troppo lunga ma volendo poi vi faccio vedere come si può fare anche per diminuirne la lunghezza basta cambiarne la velocità se vi faccio andare il video si vedrà il video con la scritta sopra che verrà mostrata in questo modo come vedete come se fosse digitata sul momento secondo me è una buona personalizzazione con la parte finale come vedete che rimane fissa per un certo periodo di tempo questo video uno lo crea una volta e poi lo può usare tutte le volte che vuole magari per invitare le persone a iscriversi al proprio canale YouTube oppure per mettere una scritta che so pubblicitaria di qualsiasi tipo prima di concludere vi faccio vedere un altro paio di cosette innanzitutto si può selezionare la scritta e naturalmente invece di vederla a tutto schermo si va su filtri più video size, position and rotate e magari posizionarla che so in alto a destra in questo modo se è troppo lenta come in questo caso e vogliamo velocizzarla anche questo è molto semplice si seleziona la scritta e non il video sottostante basta selezionare la scritta in questo caso magari togliamo il filtro size, position così si vede meglio selezioniamo appunto la clip della scritta e andiamo su proprietà come vedete qui c'è la velocità che è 1 possiamo che so raddoppiarla e quindi dimezzare il tempo di permanenza della scritta selezioniamo mettiamo un 2 andiamo su invio ecco fatto come vedete anche visivamente si vede che si è dimezzata la lunghezza della scritta che sarà molto più più veloce naturalmente possiamo renderla ancora più veloce selezioniamo invece di 2 possiamo mettere 3 andare su invio cliccare esternamente e come vedete adesso sarà ancora più veloce mi pare di aver detto tutto credo che questa cosa sia abbastanza interessante e di utilità per molte persone che sono soliti postare video non solo su youtube ma anche comunque online questo è tutto alla prossima volta è tutto